La Lega del Filodoro organizza da 9 anni la giornata del sostenitore, due giorni in realtà nei quali i sostenitori di questa importante associazione vengono a visitare il centro e vengono ringraziati per la loro attività, quindi serve anche ad illustrare quello che la Lega del Filodoro ha fatto negli ultimi mesi, ma serve anche per acquisirne di nuovi, però è anche l'occasione per dire diventate sostenitori della Lega del Filodoro perché è un'esperienza che vi cambierà la vita, potete conoscere i vari volontari, gli operatori dell'associazione e toccare con mano da vicino, vedere quello che si fa giorno per giorno, nel lavoro con i sordocechi e con le gravi disabilità e quindi diventa anche tuo sostenitore della Lega del Filodoro.